Ciao a tutti e ciao Sara, grazie per aver accettato di fare l'intervista con noi, 3DS Life è veramente un gran piacere. Ciao Beatrice, grazie a voi di questo invito, mi fa sempre piacere chiacchierare con te. Sara è la nuova protagonista di una fiction che andrà in onda tra poco, i fratelli Caputo, ed è appunto una delle protagoniste femminili della serie. Sara, cosa ci racconti di questa nuova serie? Allora, è una fiction in quattro puntate, è una commedia per famiglie, per cui va in onda in questo periodo di Natale, anche se questo è un Natale un po' strano, ma a maggior ragione, visto che saremo obbligati a stare molto in casa, almeno su Canale 5 potremo vedere ogni mercoledì a partire dal 23 dicembre, una commedia che si può vedere anche con i bambini, con i figli, insomma con i ragazzi adolescenti, quindi una commedia che ci farà stare un po' spensierati, malgrado tutto. Quindi sono quattro puntate, e la prima è mercoledì 23 dicembre, poi il 30 dicembre, il 6 gennaio e il 13 gennaio. Io sono la protagonista femminile di questa serie, questa fiction, e i protagonisti maschili sono Cesare Bocci e Nino Frassica, e quindi questo garanzia di una commedia di, insomma, di qualità e divertente. è una storia molto buffa, che si basa su un grande classico, cioè la differenza tra il nord e il sud dell'Italia, in questo caso è una famiglia del nord, e cioè quella di Cesare Bocci, di cui io sono la moglie, che si trasferisce in un piccolo, da Milano si trasferisce in un piccolo paese della Sicilia. Questo perché il papà di Cesare Bocci, ormai insomma non c'è più, è morto, ma in passato era stato sindaco di questo piccolo paese della Sicilia, paese in cui aveva già avuto una moglie e un altro figlio. Poi si era ricostruito un'altra vita a Milano, in seconde nozze aveva sposato un'altra donna, da cui aveva avuto Cesare Bocci. E Cesare decide che vuole candidarsi sindaco proprio in quel paesino della Sicilia per rendere omaggio al padre, per avere un ricordo del padre. Il problema è che quando lui e tutti noi, cioè io, sua moglie e i nostri tre figli, arriviamo in questo paesino della Sicilia, l'accoglienza non è delle migliori, perché lì c'è la prima moglie del padre, che è stata abbandonata, e il figlio, il primo figlio, che è in una frassica. Quindi, insomma, ovviamente la situazione sembra drammatica, ma questo è tutto letto in chiave comica, per fortuna, e quindi ne succedono di tutti i colori. Tant'è vero che, visto che Cesare Bocci si candida sindaco, anche frassica si candida sindaco, per cui ci sarà questa campagna elettorale strepitosa, vince Cesare Bocci e quindi inizia una guerra all'opposizione da parte di Nino Frassica. In tutto ciò il mio personaggio mi piace moltissimo, perché quando arriva, essendo una super milanese rampante, proprio tipo da Fashion Week, si sente un pochino un pesce fuor d'acqua. In più deve gestire questi tre figli, soprattutto quella di Mezzo, che è interpretata da Giorgia Boni, che è una bravissima, giovanissima, ma bravissima attrice, questa figlia è adolescente, quindi ne combina di tutti i colori. E il mio personaggio, che si chiama Patrizia, già si sente un pesce fuor d'acqua lei, in più gestisce questi figli, che non sempre sono facilissimi, però la cosa che mi è piaciuta tanto è che trova sempre il lato positivo delle cose, cerca di inserirsi nel tessuto sociale di questo paese, e ce la fa. Cioè lei è l'unica che poi veramente si inserisce all'interno del paese, facendosi delle amiche, cerca di avere un rapporto, se non cordiale, almeno decente, con la mamma di Nino Frassica, riesce a instaurare un bel rapporto con Nino. Quindi insomma, è un personaggio molto positivo, e buffo, perché anche il fatto che sia una milanesona che arriva in Sicilia, anziché essere, come dire, uno snobismo antipatico, insieme al regista, appunto, Alessio Inturri, che è uno dei motivi per cui ho accettato questo lavoro, perché è un regista straordinario, secondo me, ama gli attori, tecnicamente precisissimo. Quindi insomma, è sempre bello lavorare con lui, e quindi grazie anche a lui abbiamo reso questa Patrizia una snob buffa, ecco, che era quello che mi interessava. Proprio tu ci hai parlato appunto di, diciamo, del tuo ruolo, qual è il messaggio, quindi, che nasconde, diciamo, che si cela dietro la serie, dietro questa fiction? Ma sicuramente di andare al di là di vecchi rancori, di superare incomprensioni, rancori, di vivere in pace, quello sì, e di superare i pregiudizi, indubbiamente, perché entrambe le fazioni hanno i pregiudizi, cioè la famiglia siciliana ha dei pregiudizi su chi arriva da Milano e la famiglia milanese ha dei pregiudizi su chi vive in un piccolo paese della Sicilia e questi però saranno superati, quindi forse è un invito tra una risata e l'altra ad accogliersi malgrado le differenze, che mi sembra un messaggio bellissimo proprio come cittadini di tutto il mondo. Assolutamente, soprattutto poi in questo periodo molto particolare che stiamo vivendo tutti indistintamente. come è nata l'idea di questa fiction? Ma sinceramente questo non lo so perché non sono all'origine della scrittura di questo progetto, quindi non ho idea di dove sia nato ecco appunto il soggetto. Credo che il progetto è interno alla produzione quella che è la Ciao ragazzi di Claudia Mori e la produttrice esecutiva che era sul set con noi è Anna Maria Mori che è stata sempre presente però ecco non so dirti l'origine della storia. Perché è stata proprio scelta diciamo come ambientazione la Sicilia? Credo perché avevano già in mente di chiedere a Ninofrastica di interpretare il ruolo uno dei due protagonisti maschili e quindi era necessario che la storia fosse ambientata in Sicilia per dare la possibilità a Nino di dare proprio il meglio di sé cosa che ha fatto. Infatti a tal proposito ti vorrei chiedere come è stato lavorare con attori ovviamente di alto livello come Frassica e Bocci? Molto bello ovviamente perché poi in questo caso oltre ad essere due grandi professionisti sono anche due belle persone per cui siamo stati bene sotto tutti i punti di vista cioè sapevamo che avremmo lavorato bene e in più insomma ci siamo anche divertiti tra un cioc e l'altro insomma l'ambiente era l'atmosfera era simpatica molto distesa ma il grado appunto i ritmi fossero piuttosto sostenuti no? Certo. come sempre però no bello è stata una bellissima esperienza voi avete concluso diciamo il lavoro prima dell'emergenza o avete lavorato anche durante diciamo l'ultimo periodo? No no per fortuna avevamo finito già ah bene avete potuto lavorare tranquillamente come siete soliti fare senza le dovute precauzioni eccetera di questo di questo momento sì sì per fortuna sì abbiamo finito era settembre del 2019 quindi ancora proprio non si parlava assolutamente di questo virus e le riprese si sono svolte insomma serenamente senza intoppi dovuti a questo invece volevo farti un'altra domanda visto che tu hai parlato del tuo personaggio tu hai detto appunto che il tuo personaggio ha avuto comunque una crescita all'interno della della fiction tutti gli altri personaggi invece diciamo o comunque ecco i protagonisti principali cosa ci racconti di loro sicuramente tutti hanno un'evoluzione emotiva nel senso che appunto adesso non posso dire troppo perché se no vi rovinerei la visione però tutti hanno da un punto di vista affettivo o emotivo uno sviluppo e una crescita sicuramente Patrizia per esempio quindi la mamma cioè il mio personaggio ha uno sviluppo anche sociale professionale cioè mi era piaciuto questo che aveva più come ti posso dire cresceva sotto tanti aspetti però tutti i personaggi hanno un'evoluzione in alcuni momenti soprattutto i più giovani quindi il personaggio interpretato da Riccardo De Rinaldi è un giovanissimo ma bravissimo attore che interpreta il mio figlio maggiore lui è alla ricerca di sé come tanti ragazzi che hanno 17 18 anni e quindi anziché studiare insomma si occupa di altro insomma però poi trova la sua strada quindi anche lui ha la sua evoluzione la figlia adolescente anche ha un sacco di come dire è un po' ribelle però poi trova il suo modo per stare bene e il figlio più piccolo che è interpretato da Riccardo Antonaci che è un bambino bravo e anche lui trova come dire è forse il personaggio che è più tranquillo perché appunto è ancora piccolo per cui come dire riesce anche a instaurare un rapporto immediato e affettuoso anche con la parte siciliana della famiglia malgrado tutti gli altri invece siano un po' in lotta però sono tutti belli personaggi bene allora dobbiamo per forza per forza vederla ecco avete già in mente o comunque c'è nell'aria una seconda stagione sì nel senso che il finale ha un doppio colpo di scena e quindi resta aperto su alcune possibilità quindi diciamo che ovviamente gli sceneggiatori d'accordo con la produzione si sono lasciati la possibilità di scrivere e girare la seconda stagione noi come attori ce lo auguriamo tutti perché ci crediamo molto e insomma siamo contenti di quello che abbiamo fatto adesso bisogna vedere che cosa ne pensa il pubblico e quindi se come ci auguriamo questa storia piacerà e piacerà come l'abbiamo interpretata se il nostro lavoro sarà apprezzato probabilmente gireremo anche il seguito bene e quindi se così dovesse essere ti aspettiamo anche per la seconda stagione tu sei ovviamente favorevole sì certo bene e allora io ti ringrazio per il momento e ecco propongo a tutti di vedere questa nuova commedia grazie Beatrice e grazie infinite e ci sentiamo presto anche per perché no per commentarla dopo l'uscita volentieri sì è una bella idea mi farà piacere va benissimo va bene ciao Sara grazie e buon Natale grazie grazie anche a te anche a tutti gli amici e le amiche che ci stanno ascoltando e che ci seguono e che vedranno la fiction assolutamente ciao 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 grazie 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 grazie